Sì, la modalità è sicuramente è questo che dà un po' fastidio anche perché non è la prima volta che succede quindi c'è un po' di rammarico però bisogna ricominciare bisogna lavorare lasciandoci alle spalle questa partita Rifarebbe le scelte che ha fatto a posteriori ci ha ripensato anche a partita in corso? Sì Sì, serenamente Sì, perché il primo tempo non è stato comunque fatto bene nel senso che lì potevamo andare sotto potevamo andare in vantaggio era una partita aperta nel senso che sapevamo che il Gubbio era bravo a ripartire l'avevo già detto varie volte anche a voi, anche ai giocatori non siamo stati bravi ad andare sugli appoggi e abbiamo concesso queste ripartenze però eravamo in casa o avevamo un altro tipo di atteggiamento che ci abbassavamo tutti sotto la tre quarti e aspettavamo il Gubbio ma non mi sembrava il caso visto che siamo a Padova e visto che abbiamo dovuto cercare di fare la partita ci siamo esposti a qualche ripartenza che abbiamo subito fortunatamente non siamo andati in svantaggio abbiamo avuto anche noi comunque varie circostanze per andare in vantaggio nel momento che siamo andati in vantaggio nel finire il primo tempo sicuramente il secondo tempo è stato nettamente diverso nel senso che il Gubbio ha fatto molto più fatica ci ha creato pochi problemi noi invece ne abbiamo creati parecchi non siamo stati bravi a finalizzare molte volte anche nell'ultimo passaggio nelle varie conclusioni e poi abbiamo preso un gol da suicidio da suicidio addirittura? sì da suicidio calcistico nel senso che è una rimessa laterale nostra quindi non si può prendere una ripartenza su una rimessa laterale una squadra esperta come la nostra questo non doveva concederlo al di là che poi c'è stata anche la circostanza fortunosa perché il tiro di Ferretti era non voglio usare un termine troppo forte era un tiro fatto male che andava fuori di qualche metro purtroppo c'è stata questa deviazione abbiamo preso gol abbiamo avuto l'opportunità anche poi di vincerla ancora e si vede che doveva andare così insomma però al di là delle scelte che ho fatto Berardocco non è stato brillante come la gara precedente quindi l'ho sostituito il secondo cambio è stato al posto di Neto che era chiaramente un po' più in difficoltà rispetto alle altre gare perché sappiamo tutti il motivo quindi ho messo Alfa che quando ha giocato non bisogna dimenticare che ha sempre fatto bene ha fatto il suo e ha determinate caratteristiche avevo l'alternativa di mettere dei 5 come ho detto non l'ho messo perché la settimana scorsa ha fatto 27 minuti dopo si è infortunato a Pontedera contro il tutto cuoio non si è più allenato fino alla rifinitura è un giocatore che non si allena una settimana non puoi hai troppi dubbi su come possa stare quindi avevo l'alternativa di cambiare l'attaccante mentre l'ultimo cambio l'ho dovuto fare forzato perché Alessandro aveva un piccolo problema oggi vediamo credo di affaticamento al polpaccio e ho dovuto fare il terzo cambio se no avrei messo magari un altro giocatore possiamo voltare pagina adesso ci si ritrova per pensare a Mantua Mantua che tra l'altro ha vinto fuori casa in casa del Salopro ovvio perché questo è un campionato equilibrato e non ci sono partite facili ma Zocco sarà squalificato Decenco appunto lo ritrova e deve vedere come sta Favalli insomma quindi c'è un po' da fare anche la conta al di là della conta devono cominciare ad allenarsi e a farmi vedere una settimana intensa di allenamento di abnegazione per il lavoro e dopo di che farò le scelte in base è quello che vedo ma a base è giusto che sia il campo che parla Mantua come lo vede vediamo la vittoria quindi galvanizzato il Mantua ha cambiato parecchio ha preso giocatori comunque importanti è una squadra che ha vinto ha vinto fuori casa e quindi sarà un'altra battaglia dovremo fare un'altra battaglia come sarà da qui alla fine parlavi di Alphagame prima un giocatore che hai detto ha fatto le sue buone prestazioni quando è stato chiamato in causa forse non ci si aspettava pur avendo le occasioni di vederlo a tratti addirittura titubante nell'uno contro uno che forse è la sua migliore migliore qualità andar via in velocità all'uomo forse è un giocatore che va un po' tra virgolette recuperato anche psicologicamente secondo te nel senso fisicamente si vede che c'è forse non è così sicuro in questo momento ma secondo me bisogna sempre andare a ricercare un colpevole nel senso Alphagame ha fatto il suo ha attaccato ha sbagliato una volta un uno contro uno a campo aperto che invece di rallentare la corsa doveva cercare di puntare più velocemente il difensore ha fatto una scelta diversa di provare a driblarlo all'interno e non ce l'ha fatta un'altra situazione era molto defilato era in inferiorità numerica rallentato per fare arrivare altri due compagni la terza volta è andato davanti al portiere ha fatto una scelta di calciare ha calciato ha fatto un gran intervento all'altro portiere ha rincorso tantissimo e quindi Alphagame non vedo perché vada messo in discussione le sue caratteristiche sono queste anche a Parma quando abbiamo venito a Parma abbiamo venito a Venezia era questo Alphagame non è che si può sempre andare a mettere in discussione tutto e tutti non è così almeno da parte mia ripeto avesse fatto gol al 93esimo e qualche cosa adesso staremmo parlando del Salvatore del Padova non sarebbe giusto neanche questo non si tratta di trovare il colpevole per carità però quel gol non l'ha fatto non l'ha fatto c'è anche la bravura del portiere quindi facciamo gli applausi al portiere in questo caso ha attaccato la profondità è andato davanti ha fatto la scelta di calciare forte sulla sua destra è stato bravo il portiere poteva anche metterla giù andare avanti fare altre fare fare debbare il portiere fare gol ha fatto questa scelta il portiere è stato bravo quindi non vedo perché sia un giocatore da recuperare a primo posto credi ancora sì perché comunque bisogna fin quando mancano 13 gare sono 39 punti abbiamo ancora gli scontri diretti come ci credevamo settimana scorsa è chiaro che le percentuali sono inferiori in questo momento rispetto alle altre squadre che sono davanti perché hanno più punti di noi è ancora aperto a tutto e a tutti secondo me a valli diceva che ha avuto un problemino a polpaccio l'hai già detto anche subito dopo la gara tra l'altro il polpaccio è sempre il solito che ha già avuto qualche fastidio anche in passato ma credo che almeno parlando poi a fine gara io Alessandro non l'ho visto ancora credo che sia un affaticamento solo del polpaccio quindi non ci siano problematiche diverse credo sia così quello che mi ha detto a fine gara però adesso aspettiamo anche il medico e vediamo che cosa ci dice